È venuto fuori il famoso 8 settembre, allora bisognava smagliarsi e da lì siamo andati a Gioia del Cole. Lì a Gioia del Cole ci siamo messi d'accordo, tutti gli ufficiali, soltanto uno o due che erano del nord sono andati via, e hanno deciso di passare la palla agli inglesi. Siamo partiti e di giorno siamo riusciti a far andare via agli aeroplani senza che i tedeschi ce li mitragliassero, ce li fermassero. Di notte siamo partiti, io ero in macchina con piccoloni, siamo levati in braccio agli anglo-americani l'indomani mattina. E poi siamo andati avanti, siamo andati a Tarato e a Lecce.